Visitate il sito rba.it, troverete aggiornamenti quotidiani sulle notizie ma anche sulle interviste, sui podcast che carichiamo e approfittatele anche perché no per andare a ricercare, a riascoltare l'intervista che faremo adesso insieme al nostro ospite che è qua accanto a me, diamo il benvenuto negli studi di RBA e in voce delle chiese a Stefano Bertuzzi che si occupa in particolare del servizio civile universale, lavora nell'ufficio volontariato della Diaconia Valdese Ciao Stefano e bentornato su RBA Grazie, grazie per l'invito e un saluto a chi è in ascolto Buon anno, abbiamo iniziato subito con il bando per il servizio civile universale per la prossima stagione aperto quindi siete nel pieno dei lavori Siamo nel pieno dei lavori perché è il momento clou, è il momento nel quale appunto i giovani e le giovani possono candidarsi possono cercare il progetto che preferiscono, possono spulciare tra tutte le possibilità che ci sono in Italia e anche all'estero e candidarsi appunto Esatto, esatto, allora c'è tempo fino al 10 febbraio quindi insomma c'è ancora ampio margine per potersi informare giustamente adesso siamo agli inizi insomma della presentazione delle varie candidature però il consiglio che diamo sempre è quello di non perdere troppo tempo perché poi c'è comunque un po' di burocrazia da effettuare Esatto, per candidarsi allora vabbè magari ricordiamo cos'è il servizio civile universale che ha una lunga storia su cui adesso assolutamente non entriamo nei particolari Ma avete curato insieme a Davide Paschetto un bellissimo articolo che è uscito su riforma.it e io vi invito ad andare a rileggerlo perché ha fatto un po' la storia Fa un po' la storia perché nasce dall'obiezione di coscienza alla leva obbligatoria e poi appunto nel corso degli anni è diventato servizio civile che adesso ha aperto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni, 29 non compiuti e quindi ha aperto diciamo a tutti in questa fascia d'età che siano italiani residenti in Italia o persone dell'Unione Europea con appunto cittadinanza di un paese dell'Unione Europea Il servizio civile viene fatto in tutta Italia o anche in alcune sedie all'estero di cui però noi diaconia valdese non ci occupiamo e noi come diaconia valdese e come partner della diaconia valdese abbiamo posti in varie zone d'Italia ovviamente qua nelle valli valdesi abbiamo circa la metà dei posti a disposizione ma anche in altre regioni Sì, allora possiamo anche elencarne ci sono posti in Sicilia, in Toscana, in Lombardia e in Lazio ovviamente là dove ci sono strutture della diaconia valdese Esatto, della diaconia valdese appunto come dicevo di alcuni partner Spesso legati comunque alle chiese evangeliche l'AFCEI o altri ecco insomma adesso non entro in particolare Cooperative, sì Cooperative, sì Cooperative, eccetera in settori molto diversi diciamo così prevalentemente a carattere sociale ed educativo anche qualche progetto di tipo culturale in strutture che lavorano con migranti, anziani, persone con disabilità giovani, bambini, minori tutta la vasta gamma del sociale ecco Esatto, c'è molta scelta è davvero una proposta trasversale perché dalla tipologia di utenza ma anche proprio per la qualità e la differenza dell'impegno che il volontario la volontaria andrà a prendere c'è tanta differenza quindi potete davvero andare a scegliere quello che più si adatta a voi il consiglio è un po' quello di andarsi a cercare un progetto di scegliere un ambito un progetto che possa ben adattarsi alle caratteristiche della persona Esatto, sul sito della Diaconia Valdese ci sono per esempio elencati tutti i nostri progetti e tra l'altro con proprio la descrizione intera del progetto per ogni progetto c'è una scheda riassuntiva che dice sostanzialmente cosa troveranno i volontari durante il progetto quali saranno i loro compiti quale sarà il contesto in cui lavoreranno eccetera e poi ci sono le istruzioni su come candidarsi come appunto presentare la candidatura come saranno fatte le selezioni eccetera questo è molto importante perché appunto lo ricordavi giusto prima ci vuole un attimo innanzitutto bisogna avere lo speed perché la candidatura da ormai 3-4 anni a questa parte si fa solo ed esclusivamente online attraverso un sito del dipartimento che ovviamente del dipartimento delle politiche giovanili che ovviamente noi linkiamo all'interno del sito della Diaconia Valdese quindi la domanda può essere presentata solo ed esclusivamente attraverso questo portale e attraverso questo portale poi vanno inseriti tutti i dati quindi la scelta del progetto e della sede per il quale appunto si fa domanda e poi tutte le informazioni personale il curriculum vitae insomma tutte le informazioni che poi servono anche nella fase di selezione e per il quale io consiglio sempre siate puntuali nel compilarla perché è molto importante perché poi in fase di selezione i selettori si basano anche sul curriculum e sulle informazioni che i candidati mettono all'interno appunto della domanda online quindi niente di complicato ma la dovuta attenzione la dovuta accortezza nel presentare la documentazione debitamente compilata senza dimenticare diciamo dei pezzettini in giro perché poi potrebbero essere appunto questi piccoli dettagli a fare poi la differenza nella selezione anche perché sovente in poi c'è insomma molte persone aderiscono al servizio civile e quindi si crea un po' una graduatoria assolutamente sì equiparata diciamo così la selezione del servizio civile a un concorso pubblico quindi c'è una selezione ufficiale si valuta appunto il curriculum che viene trasmesso e poi anche ovviamente con un colloquio si valuta l'idoneità del candidato o della candidata a quello specifico progetto perché poi oltre a diciamo così la scelta personale uno deve anche essere in grado di partecipare in determinati contesti abbiamo detto ci sono persone con diversi livelli di fragilità progetti più o meno con persone più o meno fragili ecco insomma certo che prevedono delle mobilità insomma sì certo è una scelta da porre in modo molto molto attento e consapevole il progetto di servizio civile universale di Aconia Valdese dura 12 mesi quindi dura un anno completo con inizio tarda primavera tarda primavera estate se seguiamo la stessa tempistica dell'anno scorso dovrebbe essere fine giugno poi potrebbe variare un po' questo non è nelle nostre mani questo no no questo non è nelle nostre mani come ho detto appunto è organizzato dal Dipartimento per le Politiche Giovanile sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri quindi noi seguiamo le tempistiche ovviamente che ci vengono dettate dal governo in questo caso assolutamente quindi fino al 10 febbraio noi vi invitiamo ad andare a curiosare sulla pagina diaconiavaldese.org sulle varie pagine social insomma che accompagnano il servizio di volontariato della Diaconia Valdese 61 posti in totale in tutta Italia esatto e se posso aggiungere una cosa noi come ufficio volontariato siamo assolutamente a disposizione sempre sul sito della diaconiavaldese diaconiavaldese.org alla sezione servizio civile trovate i nostri contatti diamo la possibilità di avere appuntamenti sia online sia in presenza per aiutare a compilare la domanda quindi basta prendere un appuntamento con noi venite muniti di speed e curriculum vite e vi diamo una mano addirittura anche alla scelta del progetto se i ragazzi e le ragazze avessero dubbi su quale potrebbe essere il più idoneo per loro quindi c'è un accompagnamento che offriamo proprio dal momento in cui decidono di candidarsi fino alla fine del servizio se poi vengono selezionati bene io ti ringrazio Stefano per essere stato con noi grazie mille magari facciamo poi un piccolo ritorno su questo tema tra qualche settimana vediamo come va come sta andando quindi io intanto ricordo servizio civile universale il bando è aperto fino al 10 febbraio 2023 sul sito diaconiavaldese.org trovate le informazioni che vi servono i dettagli i link a cui accedere per avere anche dei piccoli affaggi quasi quasi degli assaggi è vero perché poi sono dei piccoli report di quelli che sono i progetti che sono stati presentati grazie e alla prossima grazie mille a voi grazie mille a voi grazie mille a voi grazie mille a voi Grazie.